Il personale dell'azienda è fornito di patenti per saldatura con norme UNIEN 287-1, fondamentali per le garanzie di tutti i prodotti. Le saldature vengono pulite mediante decappaggio elettrochimico ed ecologico sul quale viene eseguito il processo di passivazione in base all'utilizzo finale per il quale viene costruito il manufatto. L'azienda esegue i test di qualità con sistema di riempimento con acqua e un successivo collaudo in pressione atmosferica e alta pressione. Altri importanti controlli sono eseguiti con RX, liquidi penetranti, nonché collaudi distruttivi, oltre a test chimici per rilevare la quantità di ferrite, la rugosità del metallo, fino al controllo del grado di elettrolucidatura. Albrigi Tecnologie è sempre stata la prima azienda produttrice di Tank ad applicare gli accessori a filo interno e non sporgenti e i chiusini superiori applicati con sviluppo nella lamiera. Lo stesso cordone di saldatura viene laminato, lucidato internamente e satinato all'esterno.